full cast oggi suona tramonti di sopra siamo nell'alta val tramontina la natura e il paesaggio sono spettacolari tanto che le sue pozze smeraldine sono considerate uno dei dieci posti più belli d'italia dove fare il bagno tra rocce bianche e pozze d'acqua cristallina le troviamo lungo il corso del fiume meduna in un angolo davvero speciale inserito laddove il territorio delle dolomiti si fa ancora più selvaggio a full cast suona tramonti di sopra suono di scena matteo sgubino e l'ude tremblant allora benvenuti a tramonti di sopra nell'alta val tramontina nell'oltre trentennale rapporto di collaborazione con full cast abbiamo voluto portare la musica nelle sedi delle varie attività produttive ed enogastronomiche della nostra valle è un impegno e dalla parte nostra è una vicinanza dell'amministrazione a queste attività che hanno subito in questo periodo di coronavirus delle difficoltà augurandoci che poi questo periodo venga superato degnamente da tutti grazie a 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 tutti e a tutti grazie 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 a tutti